Buongiorno a tutti, io sono Roberto Natalini, sono un matematico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, faccio anche parte del Consiglio Scientifico dell'Unione Matematica Italiana e vi presento oggi il nostro ospite. Vi dico qualche notizia prima di cominciare. Alessio Figalli è nato a Roma il 2 aprile 1984, quindi una settimana fa ha compiuto 35 anni, auguri Alessio. Se fosse uno sportivo sarebbe un po' vecchio, però Totti, Federer dopo i 35 hanno fatto cose notevoli, quindi ancora c'è tempo, però per essere un professore universitario a 35 anni è molto giovane, anche se i matematici tipicamente dopo i 40 anni si buttano, quindi ha pochi anni per continuare. La mamma e il papà sono in sala, li saluto, buongiorno, sono la mamma e la professoressa di lettere classiche nel liceo di Roma e il padre è stato professore ordinario di controlli automatici all'Università di Cassino. Alessio fin da piccolo ha mostrato una grande predisposizione per la matematica e in un'intervista aveva detto qualche anno fa da piccolo mi piaceva giocare facendo i puzzle e mia madre mi ricorda che ne completai uno da 100 pezzi quando avevo 3 anni, poi mi stancai di comporli guardando la figura e li feci al contrario. Poi ho fatto però il liceo classico, una cosa un po' strana per uno che fa matematica ma forse non tanto, ci sono tanti matematici che hanno fatto il liceo classico e ha cominciato tardi a fare il matematico, inizialmente in un'altra intervista ha detto non avevo nessuna motivazione particolare, alla fine è stato un po' un caso, insomma la matematica mi divertiva ma non sapevo se avrei potuto farne un lavoro, con le Olimpiadi di matematica ho avuto uno stimolo a fare qualche cosa in più ma ancora non ero sicuro, insomma non sono stato il ragazzino prodigio che a 10 anni faceva chissà che cosa, a 10 anni andavo a giocare a pallone, questo è quello che ha dichiarato. A 18 anni però entra la scuola normale di Pisa e si laurea a tempo di record, si laurea in 4 anni al posto di 5 sotto la guida di Luigi Ambrosio che è un matematico bravissimo della scuola normale e poi consegue il dottorato a tempo di record, il dottorato ci vogliono 3 anni per farlo e lui ce ne mette uno solo, quindi nel 2007 è laureato e sempre presso scuola normale di Pisa e l'economale di Lione e a questo punto diventa incredibilmente molto giovane, a 23 anni diventa ricercatore in Francia, vince un concorso da ricercatore in Francia quando la maggior parte di noi ancora sta facendo gli esami universitari, poi l'anno dopo diventa professore a Parigi e poi il grande volo diventa professore associato negli Stati Uniti a 25 anni e subito dopo, due anni dopo nel 2011 diventa professore ordinario a 27 anni, sempre negli Stati Uniti, nell'Università del Texas a Austin. Poi nel 2016, quindi tre anni fa, è tornato in Europa, è andato a Zurico all'ETH dove adesso è full professor e ha anche vinto uno dei premi più prestigiosi che c'è in Europa che sono gli ERC Grant, che sono i premi del Consiglio Europeo della Ricerca. Però la cosa per cui è diventato famoso, per cui l'estate scorsa tutti quanti sui giornali abbiamo visto la sua fotografia, l'abbiamo vista in televisione, è che lui ha vinto la medaglia Fils per la matematica il primo agosto del 2018. La medaglia Fils è una di quelle di onorificenze che coronano la carriera di un matematico, anche se sono date a matematici sotto i 40 anni, in realtà sono un pochettino il riconoscimento veramente di essere arrivato al vertice a livello mondiale. Pensate che in Italia soltanto un'altra persona negli anni 70 bombieri aveva vinto questo premio, quindi è il secondo italiano a vincere questo premio. Alessio ha viaggiato tantissimo, è stato in tantissime università, 8 credo, in tantissime città, 7, 4 paesi diversi, c'è Italia, Francia, Stati Uniti, Svizzera, ha pubblicato oltre 120 lavori e 3 libri. In che cosa lavora? Beh, ve lo racconterò oggi, è inutile che ve lo racconto io, in che cosa fa Alessio in matematica. Io però non voglio farvi perdere altro tempo, però voglio raccontarvi di quando io ho saputo dell'esistenza di Alessio. Eravamo a un convegno a Lione nel 2006 e l'Italia aveva appena vinto i mondiali di calcio. E battendo proprio la Francia. Allora si fu organizzata una partita a calcetto tra matematici italiani e matematici francesi. Io ero troppo vecchio per fare queste cose, però dei miei giovani collaboratori andarono a giocare e si trovarono in squadra Alessio. Insomma, l'Italia a calcetto matematico perdette in maniera clamorosa, subimmo una sonnata sconfitta, ma l'unico che sapeva giocare a pallone era Alessio Ficali. Il giorno dopo, io però non sempre ho detto, ma c'è un ragazzino bravo, insomma giovane, che ha 22 anni, che gioca bene a pallone. Questa è la prima menzione che mi viene fatta di Alessio. La seconda, il giorno dopo vado a parlare con un famoso matematico francese che si chiama Cedric Villani, che poi qualche anno dopo ha vinto anche lui la medaglia Fils, quindi veramente un matematico molto importante. Stavamo nel suo studio e lui mi dice, Roberto, è arrivato qui un matematico da Pisa, molto bravo, un vero genio, e poi detto da Cedric Villani era importante, si chiama Alessio Ficali. Ecco, io ho avuto queste due, come dire, queste due nozioni della sua esistenza e allora non sapevo se era più bravo a pallone oppure in matematica. Oggi credo di avere la risposta. Alessio Ficali. Grazie mille Roberto. Innanzitutto vorrei ringraziare l'organizzatore del festival, è per me una gioia, è un onore essere qua davanti a tutti voi. Grazie di essere benvenuti. Ricordo quella sconfitta a calcetto. A nostro discolpa dovremmo dire che noi eravamo, cioè la squadra fosse relazionata tra una ventina di matematici italiani a fronte di 200 matematici francesi tra cui loro potrò scegliere l'equip. Comunque certo sì, la mia prima dote non è il calcio, in quello mio fratello è decisamente molto più bravo di me, però insomma in matematica me la cavo. Il messaggio, diciamo l'idea di oggi, grazie. L'idea di questo incontro appunto matematica ottimale, un po' un misto di un gioco di parole tra la matematica e il trasporto ottimale. Il trasporto ottimale è sempre stata una delle mie passioni e quindi l'idea dell'incontro di oggi è un po' raccontarvi cosa fa un matematico, quali sono i problemi e magari possibilmente convincervi che la matematica non è semplicemente quella a cui siamo abituati a scuola. Allora, la matematica di base nella convinzione comune è vista una disciplina molto arida e un po' fine a se stessa, quindi si vede innanzitutto la matematica come inutile, di base a parte fare le operazioni e decidere quanto è il resto in pizzeria e quanto paga ciascuno, non è che serva molto e quindi poi il matematico allo stesso modo è un personaggio un po' misterioso che si occupa di cose inutili e astratte. Ora, i pregiudizi di base che esistono su una matematica purtroppo penso che sia un po' naturale perché non c'è molto messaggio, diciamo, non siamo molto esposti a cosa è la matematica, però c'è un'idea chiaramente di una materia molto arida, molto noiosa, ripetitiva, basata sempre su formule rigide che noi ripetiamo un po' per forza senza avere troppe scelte, quindi un po' matematica arida e rigida, come dicevo matematica è inutile e infine c'è anche quest'idea secondo me sbagliata dell'idea che la matematica non si evolva, cioè se uno guarda quello che noi siamo esposti nel corso dei nostri anni scolastici di base, la matematica sono quelle operazioni di base e poi la geometria euclidea, massimo geometria in tre dimensioni, calcolare volumi di sfere e cose di questo genere e quindi di base si pensa ok la matematica si è fatto quello che si deve fare, non è euclide però possiamo fermarci al 1700 e negli ultimi 400 anni non si è fatto più nulla. Ora, diciamo, le caratteristiche di un matematico in verità sono molto diverse, allora innanzitutto la matematica vorrei, il messaggio che vorrei cercare di far passare che la matematica è creatività, è una materia molto creativa, un po' come per un pittore. La matematica spesso è attrazione per l'eleganza, questo è un po' l'idea anche magari di cercare di racchiudere in formule molto semplici dei concetti molto complessi e profondi. La matematica è rigore logico, uno più piccolo di due e poi è passione, ci vuole tanta passione ma questo come per la matematica in generale per le scienze, diciamo, gli scienziati spesso di base sono mossi dalla passione. Quindi il matematico generalmente è un personaggio che studia i problemi attratto principalmente dalla bellezza del problema, dal mistero e dalla sfida intellettuale. Detto questo, nonostante la spinta per un matematico venga, sia un po' diciamo, non motivata da applicazioni sempre, in verità quest'idea di lasciare un po' la mente navigare è ciò che ci porta ad avere tantissimi strumenti e tantissime invenzioni che non avremmo senza la matematica. Giusto per dare un'idea di tutto quello che necessita la matematica, per esempio la fotografia digitale, quella che noi usiamo tutti i giorni, la musica digitale, si basa sulla matematica. L'idea per esempio semplice a cui potete pensare è che quando voi scattate una foto, una foto è composta magari da 10 milioni di pixel, i pixel sono i quadratini da cui è composta la foto e a ogni pixel viene colorato in una maniera diversa per ricostruire la foto. Quindi una fotografia non sono alto che 10 milioni di colori che vi dicono in ciascun quadratino come va colorato. Ora i colori si possono rappresentare con numeri, spesso i colori sono da 0 a 255, sono 256 colori, quindi una fotografia vuol dire che a ogni pixel vi ho associato un numeretto che vi dice con che colore va messo in quel pixel. E quindi una fotografia in verità non è altro che una lista di numeri, che corrispondono appunto a una fotografia, però una volta che voi avete trasformato la fotografia in numeri, a quel punto ci potete lavorare matematicamente, la matematica entra in gioco e vi permette magari di scambiarvi foto da un cellulare all'altro quando ve le inviate con Whatsapp. E la stessa cosa per il suono, il suono che ora voi sentite passa nel microfono, il microfono lo trasmette alle casse e per trasmetterlo si tratta di riuscire a racchiudere il suono in una serie di numeri che poi vengono inviati. Quindi diciamo la matematica è dietro a tutti questi concetti, è dietro il GPS, la criptografia è semplicemente matematica, i motori di cerca, per esempio Google fino agli anni 90 i motori di cerca erano molto inefficienti e solamente all'inizio, fino agli anni 90, inizio 2000, Google ha capito come usare i teoremi delle matematiche, in particolare di probabilità, per riuscire a rendere i motori di cerca efficienti, che quando voi scrivete le parole chiave salta fuori veramente ciò che cercavate. Stessa cosa risonanze magnetiche, risonanze magnetiche o in generale voi avete un oggetto tridimensionale, mandate delle radiazioni, quindi ottenete delle immagini due dimensionali, però voi volete ricostruire poi tutto l'oggetto. E stessa cosa in medicina, la previsione del tempo è molto altro. Quindi la matematica in verità è un po' dappertutto. Quindi come dicevo, tutte queste applicazioni sono chiare, sono concrete, sono attuali, però in verità si basano spesso su risultati matematici anche molto antichi, per esempio la criptografia si basa su risultati del 1600, oppure l'idea di trasmettere i suoni, trasmissioni di suoni che vengono resi digitali, si basa sulla teoria di Fourier che è del metà del 1800, quindi comunque ben prima che queste applicazioni nascessero i matematici già avevano capito come poter compiere certe operazioni. Non è per questo che la matematica si è fermata, la matematica va avanti perché le sfide poste al mondo moderno sono tante, il mondo moderno avanza molto velocemente e i matematici cercano di dire il passo e continuare a produrre matematica che serva appunto alle sfide di oggi. Ora, volendo andare sul personale, quindi diciamo l'idea di oggi è un po' anche trasmettervi il mio percorso, darvi un piccolo racconto e raccontarvi un po' cosa ho fatto io, cosa mi sono occupato, quindi un po' il mio percorso. Ora, la storia inizia tanti anni fa, cinque anni, questa è una foto a cui sono affezionato, questa è già con la testa per aria e poi 34 anni ancora con le bolle di sapone a guardarle, questa è una foto che è stata fatta a Zurigo davanti al Politecnico. Allora, quello che vorrei, per cercare di passare un po' il messaggio vorrei discutere quattro esempi, in verità saranno due esempi discussi un po' più in dettaglio, i primi due e poi il terzo e il quarto sul finale. Allora, la prima domanda che uno si può porre, noi siamo tutti abituati a giocare con le bolle di sapone quando eravamo bambini e le bolle di sapone sono rotonde, sempre, noi soffiamo e vengono fuori queste belle bolle di sapone rotonde, perché? Cosa c'è dietro? Seconda cosa, se io guardo le nuvole, le nuvole si muovono nel cielo e le nuvole sono composte di tante particelle, perché sono le particelle di vapore e acqua, quindi abbiamo insieme questo agglomerato che in verità è composto di particelle infinitesimali e se vogliamo capire come le nuvole si stanno muovendo, in verità dobbiamo capire le singole particelle come si muovono, quindi è un problema molto complesso perché è basato sul movimento di miliardi di particelle. Quindi se io guardo a sinistra la mia nuvola composta da un certo numero di particelle, ora qua è un po' chiaramente esagerato in questo disegno, e a destra la nuvola diciamo un secondo dopo, le particelle da sinistra a destra si saranno mosse, come vedete nell'immagine, però mi posso chiedere per esempio questa particella a quale corrisponde, a intuito sarà questa, magari questa corrisponde a questa e così via, vorrei capire esattamente ciascuna particella a destra da quale particella è venuta a sinistra. Ora finché sono un numero così, è abbastanza semplice, quando iniziano ad essere miliardi è molto più complicato. Il terza cosa, il problema è di capire come una membrana elastica si deforma quando incontra un ostacolo, questo è anche un problema di elasticità molto classico, a certe volte gli ostacoli sono più spigolosi, quindi una membrana elastica puoi incontrare magari una testa dura e vogliamo capire un po' la deformazione dell'oggetto. E poi il quattro problema è come descrivere il processo di scioglimento del ghiaccio nell'acqua. Quindi detti così sono quattro problemi a priori completamente scollegati tra di loro, però poi quando un matematico inizia a studiarli magari inizia a trovare delle connessioni. Allora, per trovare le connessioni devo raccontarvi prima cos'è il trasporto ottimale. Il trasporto ottimale è una teoria molto antica, iniziata nel 1700, siamo intorno al 1781 quando Gaspard Monge, un matematico francese, pubblicò un lavoro Memoir sulla teoria dei Desblés e dei Ramblés, che descriveva qual era la maniera più efficiente di recuperare del materiale dal terreno da una maniera e trasportarlo per costruire delle fortificazioni. Questa teoria poi fu applicata da Napoleone, infatti Monge lavorò per Napoleone e Napoleone infatti finanziò molto le sue ricerche per capire la maniera più efficiente di capire dove costruire fortificazioni. Quindi diciamo il problema di Monge è quello che ho appena detto, abbiamo del materiale che viene estratto dal terreno, vogliamo costruire delle fortificazioni e vogliamo capire come farlo, in che modo trasportare la massa. L'idea è che il trasportare degli oggetti ha un costo e per esempio nel caso di Monge il costo era la distanza perché trasportare c'erano comunque soldati o comunque non era una questione di soldi, era più una questione di forza lavoro. E quindi l'idea è che non so se ho delle miniere, una a Parigi e una a Nizza, magari chiaramente userò più il materiale di Parigi per costruire delle frontiere vicino con il Lussemburgo e magari più quelle di Nizza per costruire delle fortificazioni vicino con l'Italia, per esempio. Chiaramente sto semplificando il problema più in maniera eccessiva, però giusto per capire qual era il punto di partenza. Quindi questo è il problema a cui Monge si interessò, fece degli studi che tuttora noi usiamo, però fu un problema che poi rimase lì, un po' nell'oblio, per circa 150 anni. È solo negli anni 40, tra il 42 e il 48, che Kantorowicz studiò nuovamente il problema di Monge, ma lo studiò in una maniera un po' diversa, nel senso che siamo nel periodo russo, comunismo russo, quindi diciamo tutto era controllato dallo Stato, non c'era un problema di capitalismo e semplicemente l'idea di fondo qua era, non so per esempio, ok ho fatto un esempio più attuale, però diciamo abbiamo dei panifici che producono il pane, abbiamo dei bar, diciamo producono dei cornetti, abbiamo dei bar che si devono rifornire e vogliamo capire ciascun bar da quale panificio deve comprare il cornetto. Come dicevo, lo Stato controlla tutto, quindi non è una questione di prezzi, i prezzi sono uguali per tutti, però chiaramente per minimizzare i costi di trasporto ciascun bar si vuole rifornire dal panificio più vicino possibile. Detto questo, magari questo panificio produce cornetti che arrivano a soddisfare tutta la domanda di questo bar, magari anche tutta la domanda di questo bar, ma non la domanda di questo, magari i cornetti che gli sono rimasti e che vengono mandati in questo bar non sono sufficienti, quindi questo bar userà un po' di questo panificio, però poi dovrà ordinare comunque altri da quest'altro e così via. Quindi si creano tutte queste freccette che dicono ciascun panificio quanti cornetti trasporta e si tratta di far tornare, insomma, la quantità di domanda, quantità di produzione, si tratta di far tornare poi tutte le somme. Rinuovo, in questo caso è un problema che si risolve molto velocemente, però poi uno deve immaginare che i dati a disposizione siano magari milioni o miliardi. Gli studi di Edith Kantorowicz su questo problema furono molto importanti e infatti gli valsero il premio Nobel per l'economia nel 1975. Fino a questo momento ancora non c'è matematica, abbiamo Monge, una matematica un po' all'antica e Kantorowicz, matematica però diciamo più economia. È stato solo negli anni Ottanta, da una serie di risultati di Brenier, Rachev e Rassendorf, che negli anni Ottanta dei matematici hanno iniziato a lavorare sul problema del trasporto ottimale e l'hanno visto in maniera più generale. Innanzitutto il costo di Monge era che per andare da un punto a un altro il costo era la distanza, quindi se io voglio portare del materiale da Roma a Milano, guardo la distanza in chilometri, 500 il costo sarà 500, se vado da Roma a Napoli sarà 200 e così via. Però magari il costo non è quello giusto, nel senso non c'è nessuna ragione per cui il costo sia esattamente la distanza, quindi per i matematici iniziano a prendere una situazione un po' più astratta. Dicono ok, dato un qualunque costo, che potrebbe essere la distanza, potrebbe essere il quadrato della distanza, potrebbe essere magari la distanza ma misurata percorrendo l'autostrada, magari una parte di autostrada conta di più, conta di meno che una strada urbana, perché sull'autostrada posso andare a 130 mentre in città posso andare solo a 50, ci sono tutta una serie di parametri che magari posso iniziare a tenere in conto e quindi li racchiudo questi parametri dentro un costo che tiene conto di tutti questi fattori e a quel punto dico, dato questo costo, che dipenderà da tutti questi fattori, cerco la maniera ottimale di trasportare la massa da sinistra a destra e le domande naturali che uno si pone è, prima esiste un trasporto ottimale? Cioè non è ovvio, ma esiste veramente una maniera ottimale di farlo oppure sto cercando una cosa vuota? Non esiste nessuna maniera ottimale, cioè dato una maniera, quello che potrebbe succedere è che voi trovate una maniera di trasportare che vi sembra molto buona e poi arriva un altro e dice ah io l'ho trovata ancora migliore, poi arriva un altro e dice ah io l'ho trovata ancora migliore e così via e quindi stiamo sempre cercando quella ottimale ma in verità questa ottimale non esiste, esiste sempre una maniera leggermente migliore di fare rispetto a chiunque altro e questa è una domanda diciamo proprio per cominciare a studiare il problema e poi supponendo che esista posso capire qualcosa di questo trasporto, posso capire com'è fatto e la scelta del costo gioca un ruolo importante perché come dicevo per Monge il costo è la distanza, quindi dato un punto X e un punto Y a cui trasportare guardiamo la distanza tra X e Y, in verità per molte applicazioni alla fisica e alla natura il costo naturale è X meno Y al quadrato, un mezzo davanti non è importante, che ricorda un po' l'energia cinetica per coloro di voi che hanno visto un po' di fisica, cioè l'energia cinetica è la velocità al quadrato, quindi qua a distanza al quadrato, questo quadrato è un po' molto naturale in fisica. Però in verità ci sono anche altre scelte del problema che sono naturali, perché appunto magari la geometria dello spazio gioca un ruolo, se io voglio andare da una città a un'altra, per esempio da Roma, vogliamo andare a Pescara, in mezzo ci sono gli appennini e quindi non è la stessa cosa che se voglio muovermi lungo la costa, quindi la geografia dello spazio gioca un ruolo, ci sono i laghi, ci sono le valli e quindi magari bisogna tenere ancora tutti questi fattori in conto. Comunque questo oramai è storia nota, i matematici hanno lavorato sostanzialmente degli anni 80 fino a una decina di anni fa e grossomodo queste domande sono ben chiare, queste domande hanno delle risposte ben chiare. In verità il trasporto ottimale la cosa che ha fatto esplodere lo studio di questo problema non è tanto il problema in sé, perché dopo un po' le domande essenziali uno le riesce a rispondere. Il punto è che si ha scoperto che c'erano molte più applicazioni di voi, l'uno pensava. Cioè chiaramente il trasporto ottimale si può applicare all'urbanistica, capire come strutturare una rete di infrastrutture, per esempio per i trasporti, i servizi pubblici. Questa è una foto di Zurigo dall'alto. Quale istituzione di risorse, però in verità si è capito che andava molto oltre, per esempio si è riuscito a usarlo in idrodinamica, questa fu una delle scoperte di Breniglia negli anni 80, discuterò velocemente, discuterò dopo le applicazioni in meteorologia, ma in verità anche in biologia per esempio c'è del trasporto ottimale, perché quando noi guardiamo una struttura di un albero, un albero è una struttura molto peculiare, se vedete, nel senso che ha queste radici nel terreno, che sono molto piccole all'inizio, poi partendo all'altro si ramificano, se noi guardiamo all'inverso abbiamo delle radici piccole che diventano sempre più grandi, finché non arrivano tutti insieme in un tronco. Un tronco che poi sale e di nuovo si ridivide in tanti rami fino ad arrivare alle foglie. E quindi quello che sta facendo l'albero in verità sta cercando un trasporto ottimale per prendere le risorse dal terreno e trasportarle alle foglie. E la maniera ottimale non è dire prendo la risorsa e la mando una per una a ciascuna foglia, ma è molto meglio far confluire tutte queste risorse in un unico tronco, il tronco porta tutto e poi le ridivide. Sarebbe come dire che se noi vogliamo andare, magari vogliamo trasferire una popolazione da una città a un'altra, la cosa migliore è che magari tutte le persone della popolazione prima si ritrovano tutte insieme, poi le trasportiamo tutte insieme con un unico trasporto e poi quando arrivate al centro di un'altra città ciascuno va dove deve andare. Quindi c'è questo momento che è sempre utile, diciamo prima, quando uno ha tanta massa, far viaggiare tutti insieme, costa di meno. E quindi in verità la natura fa la stessa cosa. E in verità poi il trasporto ottimale si è stato usato in molte altre cose, nel riconoscimento di immagini, l'idea è che i pixel possono essere associati a, pensati come della massa in qualche modo, cioè quanto colore c'è, come quanta massa c'è in un luogo, quanta massa c'è in ciascun pixel e quindi posso riformulare il problema di riconoscere le immagini con un problema di trasporto ottimale. E poi in verità anche in astrofisica ci sono state applicazioni alla ricostruzione dell'universo. Quindi diciamo quello che poi affascina spesso per un matematico non è solamente il problema in sé, ma anche poi le connessioni che uno riesce a trovare. E questo è un esempio di trasporto ottimale, quindi a sinistra sono io che ho ricevuto la medaglia Filz e a destra la maniera più ottimale per spostarvi da un luogo all'altro chiaramente è non pagare il biglietto più economico di così, non esiste. Quindi non suggerisco la cosa, però è chiaramente ottimale. Ora tornando a noi possiamo iniziare a studiare il primo problema. Quindi il primo problema che vi avevo posto è perché le bolle di sapone sono rotonde. Per raccontarvi questo vorrei cominciare con una leggenda, leggenda di Didone, che magari molti di voi conoscono. La leggenda di Didone è ambientata nell'ottavo secolo a.C. quando il fratello di Didone uccise il marito e quindi Didone fu costretto a scappare, navigò nel Mediterraneo finché non arrivò nel regno di Rearba, quindi sulla costa nord dell'Africa e chiese al re locale di poter comprare un appezzamento di terra sul quale lei avrebbe voluto fondare la sua nuova città. Il re acconsentì alla richiesta e disse che lei avrebbe potuto avere tanta terra quanta ne potesse racchiudere in una pelle di bue. Quindi era un po' provocatoria come offerta, Didone accettò, disse ok, quella che riesca a ricoprire una pelle di bue, la prendo, pagò e a quel punto prese la pelle di bue e la tagliò in tante striscioline. Quindi ne fece tante tante striscioline lunghe che poi ricuci insieme e a quel punto dalla pelle di bue ottene una lunga corda. Presa questa corda, Didone voleva racchiudere quanta più terra era possibile per poter fondare all'interno di questa zona recintata dalla corda la sua città. A quel punto però ci poniamo una domanda, nel senso, data una corda lunga un chilometro, che forma dare alla corda in maniera tale di racchiudere quanta più area possibile? Questo è un problema matematico. E la risposta cambia se siamo sulla costa o se siamo nell'entroterra. Quindi se lei, Didone fondò Cartagine e grosso modo se uno guarda la pianta di Cartagine, boh qua sono delle montagne quello che è, però comunque se uno guarda la pianta di Cartagine assomiglia, il confine assomiglia a una cosa di questo tipo. Quindi Didone aveva intuito che la forma migliore da dare alla corda per racchiudere quanta più area possibile era tracciare un semicerchio lungo la costa. Questo è un problema, appunto come dicevo, un problema matematico, infatti tutt'ora i matematici lo studiano e sono molto interessati a questo problema. E questo problema ha un nome, è questo nome un po' curioso, problema isoperimetrico. Quindi cos'è il problema isoperimetrico? Il problema isoperimetrico è, data una curva di lunghezza fissata, scegliere la forma che massimizza l'area rechiusa. Quindi isoperimetrico sono tutte le forme che hanno lo stesso perimetro e tra tutte le forme che hanno lo stesso perimetro, isoperimetrico, vogliamo trovare la forma che ha area maggiore. La risposta, come dicevo, cambia se siete dentro terra lungo la costa, se siete lungo la costa la cosa migliore è tracciare un semicerchio, se siete dentro terra la cosa migliore è tracciare un cerchio. Quindi questo è il problema, chiaramente Didone non aveva una dimostrazione, non era certa che questa fosse la risposta, però l'aveva intuito. Ora, il problema isoperimetrico si può formulare in due maniere diverse. Allora, o fissate la lunghezza e volete racchiudere qualsiasi più area possibile, oppure potete fissare l'area, guardate tutte le forme ad area fissata e vi chiedete quant'è la lunghezza minima che vi serve per racchiudere quel volume. Quindi diciamo a due formulazioni equivalenti. Quindi questa è l'altra formulazione più classica, quindi noi fissiamo la quantità interna di area e cerchiamo la figura che ha meno perimetro. e questo è un problema isoperimetrico, come dicevo in matematica, ed è il problema isoperimetrico nel piano. Nel piano perché, come vedete, questa è una figura planare, siamo in due dimensioni, siamo nel piano e quindi abbiamo il cerchio e il semicerchio. Però questo è un problema che ha senso anche in tre dimensioni, nello spazio in cui viviamo, per esempio. Noi abbiamo uno spazio tridimensionale, quindi ci possiamo chiedere cos'è questo problema in tre dimensioni. qui abbiamo fissata l'aria, minimizzare la lunghezza, se fossimo in tre dimensioni fissare il volume di un oggetto e vogliamo minimizzare la superficie. È la stessa cosa, semplicemente in una dimensione più alta. Quindi ci possiamo chiedere, ok, se noi abbiamo un oggetto di volume fissato, un metro cubo, qual è la forma tra tutti gli oggetti, un metro cubo, che ne minimizza la superficie. Ora, magari, visto queste immagini in dimensione 2, potete intuire qual è la risposta in dimensione 3. Delle belle sfere. Quindi il problema isoperimetrico in uno spazio è fissato il volume, se le forma minimizza l'aria e la risposta ce le danno proprio le bolle di sapone. Per quale ragione? Perché quando voi giocate con le bolle di sapone, cosa fate? Prendete il bastoncino di plastica a cui è attaccata la membrana di sapone, soffiate all'interno di questo cerchio, a quel punto la bolla tende a staccarsi a un certo momento. Nel momento in cui si stacca l'aria che all'interno non può più uscire, quindi avete questa superficie di sapone che racchiude una certa quantità d'aria, l'aria all'interno è fissata e la borla inizia ad aggiustare la sua forma istantaneamente in modo da minimizzare l'energia di superficie, questa è l'energia dovuta alla tensione superficiale del sapone. Quindi voi avete tutte queste molecole di sapone che si tengono insieme. In maniera naturale quello che vogliono fare è minimizzare la loro energia, questo è un principio generale della fisica, tutti gli stati tendono sempre ad andare nella configurazione di energia minima, ma l'energia per una bolla di sapone non è altro che quanta è la sua superficie, questo è dato da principi fisici. Quindi le bolle di sapone sono rotonde perché assumono la forma che minimizza l'aria a volume fissato. Ora, questa non è una dimostrazione per un matematico, questo ci sta solo dando l'intuizione di quale si era risposta. Riuscire poi a dimostrare che non esiste nessuna altra forma che fa meglio della bolla di sapone è un torema, va dimostrato, è stato dimostrato da De Giorgi intorno al 54 mi pare, 54, 55, comunque metà degli anni 50. Quindi diciamo che è un problema comunque matematicamente complesso. In verità uno può andare oltre, cioè ora il punto è che ok le bolle di sapone sono divertenti, sono un giochino simpatico e tutto, però quando noi abbiamo un problema fisico e lo riscriviamo in linguaggio matematico, iniziamo a scrivere delle formule. La matematica trasforma dei concetti fisici in formule. E una volta che noi lavoriamo con delle formule, in qualche modo dimentichiamo il problema fisico che c'era dietro e riusciamo a vedere tutto in quelle formule, che da una parte sembra strano, ma dall'altra ha dei grossi vantaggi. Perché? Perché magari dei problemi che a priori sembrano diversi si descrivono con le stesse formule. Quello che si è scoperto infatti circa ormai 140 anni fa, Gibbs capì che le bolle di sapone o anche i cristalli tendono a assumere la forma che assumono perché vogliono minimizzare un'energia di tensione. Quindi Gibbs ha capito che i cristalli che uno vede in natura, che hanno delle strutture molto rigide, esagonali, cubi o così via, assumono quelle forme per un principio simile alle bolle di sapone. Vogliono minimizzare una loro energia di tensione, che dipende dalla struttura molecolare. Però una volta tenuto in conto questo fattore, il problema è lo stesso. Si tratta solo di cambiare qualche formula. E infatti Wolf nel 1901 trovò proprio la formula per l'energia dei cristalli, che mostrò che di base i due problemi erano lo stesso. Cioè se uno capiva le bolle di sapone, aveva capito anche la forma dei cristalli e viceversa. Erano tutti nella stessa famiglia. Quindi questo dava una spiegazione molto importante per capire la natura e permise appunto di unificare i due problemi. Ora la domanda che però ci sono varie domande che uno si può porre, i matematici in generale e anche in fisica e in chimica si continua a fare molta ricerca. E una domanda semplice che ci si può porre è la seguente. Ok, le bolle di sapone sono rotonde. Ma sono veramente rotonde? Beh, non veramente, perché magari c'è del vento che soffia e quindi magari il vento tende a deformarlo un po'. C'è la gravità che agisce su di loro. Quindi se poi uno guarda veramente l'effetto della gravità tende a deformarle. Non saranno esattamente rotonde. Perché ci sono tante altre forze in verità che agiranno sul sistema. I sistemi non sono mai perfetti. Ci sono altri parametri che entreranno in gioco. Quindi uno ci si può porre, ok, quindi ho il mio problema ideale. La bolla di sapone che è perfettamente rotonda, il cristallo che è un cubo perfetto. Ma che succede in verità se ci sono delle forze esterne che agiscono sul sistema? Quanto queste forze influenzano la forma dei cristalli o del bollo di sapone? Quindi di base se uno inizia per esempio a prendere un cristallo che ha una forma molto precisa e inizia ad alzare la temperatura, il cristallo con la temperatura inizia a deformarsi. All'inizio si deforma poco, poi magari un po' di più e poi magari inizia a perdere completamente la struttura. Quindi la realtà è che, ok, chiaramente a un certo punto non riuscirò più a dire niente, se il tempo è enorme, il cristallo fonde e il problema non è neanche ben posto. Però ci si può chiedere, ok, ma se non alzo troppo la temperatura, quanto la forma del cristallo cambia? Oppure se le forze che agiscono sul sistema non sono troppo forti, quanto la forma cambia? Riesco a capirlo, a predirlo in maniera matematica, rigolosa. Quindi la domanda che uno si può porre è, fissata la quantità di energia somministrata, possiamo stimare quanto cambierà la forma del sistema? Quindi qui è stato un problema in cui il trasporto ottimale è risultato estremamente utile, perché quello che abbiamo fatto è stato dire, ok, ho il mio cristallo a sinistra, un bel pentagono, e quello che succede è che piano piano inizierò a fornire l'energia. Chiamo epsilon, l'energia somministrata al sistema. Epsilon è un numero molto piccolo, diciamo, quindi ho fornito 100 quantità di sinistra, magari ho alzato la temperatura di un grado, quindi epsilon uguale 1. E quindi ci chiediamo cosa succede. L'idea è che man mano che la temperatura aumenta, dal freddo si va più verso il caldo, la forma cambierà, quindi abbiamo un nuovo cristallo, e quello che noi vorremmo fare è capire come le particelle si sono mosse per passare da questa configurazione a questa configurazione. Quindi posso chiedermi qual è la maniera ottimale di passare da queste due configurazioni, quindi ho un trasporto ottimale tra questi due oggetti. Quindi il trasporto ottimale in quel modo mi permette di capire cosa è successo durante questo fenomeno di riscaldamento, e mi permette magari di cercare di studiare la domanda al mio posto, cioè quanta questa forma è diversa da questa in funzione di questo parametro epsilon. Quindi abbiamo di nuovo queste immagini, questo è un teorema che ho dimostrato insieme a due collaboratori, Francesco Maggi e Aldo Bratelli, intorno al 2010. Abbiamo dimostrato che se epsilon è l'energia sottoministrata, la forma cambierà il più di radice epsilon. E questo è ottimale, nel senso che non potete dimostrare un teorema migliore di questo, non potete, la radice di epsilon è una cosa migliore, ci sono esempi che mostrano che in generale la forma può cambiare esattamente radice di epsilon. Quindi diciamo vi dà una stima universale, eterna, che non dipende dal modello, non dipende da niente, che è stata dimostrata e sarà sempre così. Quindi vi dà un bound teorico su tutti gli esperimenti che potete fare di questo tipo di problema. Quindi questa è stata una situazione in cui il trasporto ottimale ha giocato un ruolo importante, perché ci ha permesso di fare una connessione tra questi due oggetti, che in generale sono molto difficili da confrontare, e quindi dare una risposta. Ora qua una slide più per fare paura che altro. Questo dal trasporto ottimale alla meteorologia. Ora in meteorologia in generale le equazioni sono estremamente complesse, la stessa cosa con la fluidodinamica. Tutte le equazioni che riguardano fluidi, fronti atmosferici, non è che la gente non sa fare previsioni del tempo perché non è brava, è perché le equazioni sono talmente complesse e tengono conto di talmente tanti fattori che la realtà è che neanche un computer riesce a tenere conto di tutti i parametri. Quindi è importante avere degli studi teorici di queste equazioni, perché se noi iniziamo ad avere un po' di intuito su queste equazioni, possiamo anche un po' indirizzare il computer quando il computer fa delle simulazioni e fa delle previsioni. Ma se noi un po' prendiamo delle equazioni e le buttiamo dentro un computer un po' a scatola chiusa, in verità il computer non ha mai il potere per riuscire veramente a gestire equazioni così complesse. Quindi queste sono equazioni abbastanza mostruose, che coinvolgono una serie di parametri, la velocità, la pressione, non so se avrei in italiano buoi anzi dell'atmosfera, e poi esiste un vento che si chiama vento semigeostrofico, che è una situazione che si riscontra quando uno studia fronti atmosferici su larga scala, per esempio quando voi vedete alla previsione del tempo questi grossi blocchi di nuvole che si muovono sull'Europa. Oppure si può usare anche per capire i movimenti degli oceani, anzi si applica sia le nuvole che diciamo ha dei fronti in cui comunque la scala dell'oceano è molto più grande rispetto alla sua profondità. L'oceano non è tanto profondo se uno pensa quanto è largo. Abbiamo un sistema di riflessioni molto complesso, però dietro tutto questo si scopre che c'è una domanda più semplice di fondo che è nascosta dietro queste equazioni, ed è questa. La domanda che avevo proposto all'inizio del talk, chi è andato dove? Quindi chi è andato dove? Cos'è? Abbiamo a sinistra queste particelle a un certo tempo, quindi noi guardiamo la nostra nuvola, la nuvola è composta da tutte queste particelle e a destra abbiamo di nuovo tutte queste particelle poco dopo. Mi scuso, qua c'è stato un problema di conversione font tra Windows e Macintosh, questo rappresentava delta t, insomma un piccolo intervallo di tempo, quindi qua siamo a un certo tempo e qua siamo al tempo più qualcosa, diciamo mezzo secondo dopo, un decimo di secondo dopo, quello che ha detto poco, e il punto è che guardando solo queste due immagini io vorrei sapere chi è andato dove, cioè come dicevo ciascuna particella vorrei sapere da dove proviene. Questo come dicevo è un problema complesso perché non ho nessuna maniera di associarle, è stato solo negli anni 90 che Mike Cullen, un meteorologo inglese, ha capito che la risposta era data dal trasporto ottimale. Cioè ho capito che per rispondere alla domanda bisogna fare la cosa seguente, bisogna vedere, ok, immaginiamo che ciascuna particella ha una certa massa, 1, quindi io ho questo insieme di particelle nello spazio di massa 1, abbiamo l'insieme di particelle al tempo successivo e quello che voglio fare è trasportare una a una tutte le particelle da configurazione sinistra a configurazione destra e la maniera con cui lo devo fare è quella che poi minimizzerà il costo totale di trasporto. Ossia l'idea è, che ne so, per trasportare questa particella a questa particella il costo è, nel caso di Cullen, il costo è la distanza al quadrato, quindi da questa a questa devo calcolare la distanza al quadrato, poi tra questa e questa calcola la distanza al quadrato, tra questa e questa calcola la distanza al quadrato, quindi il costo per trasportare ciascuna particella è la distanza al quadrato tra il punto dove era a sinistra e il punto dove va a destra e poi tra tutte le possibili scelte che possono fare, perché ogni particella a priori potrebbe andare a tantissime possibilità, non so dove è andata, tra tutte le possibili scelte che ha ciascuna particella in queste due configurazioni, quello che sta facendo la natura è minimizzare il costo totale, quindi la somma di tutti gli spostamenti al quadrato, quindi c'è un principio di minimizzazione dietro che la natura vuole di nuovo essere efficiente e lo fa tramite il trasporto ottimale. Quindi diciamo Cullen ha capito negli anni 90 che il trasporto ottimale permetteva di capire i movimenti delle nuvole, però non era proprio così, nel senso che Cullen capì la connessione, però era più un'intuizione fisica che un teorema matematico, Cullen non riusciva veramente a dimostrare che quello che lui vedeva come un'intuizione fisica si poteva racchiudere, cioè era visibile tramite queste formule, in qualche modo doveva ritrovare in queste formule il trasporto ottimale, che chiaramente è un po' difficile visto così. Aveva delle idee, però non riusciva appunto a farne un teorema. Molte persone ci hanno provato, ricordo che la prima volta che questo problema mi fu presentato era intorno al 2005, il mio relatore Luigi Ambrosio mi disse, ah ma lo sai che c'è questo problema delle nuvole, delle equazioni semi-geostrofiche, connesse al trasporto ottimale, per farlo bisognerebbe dimostrare questo, questo e questo. Eccitato all'idea, mi dice, ah, mi ci voglio mettere. Ok, ci provai, mi ricordo un paio di mesi, due o tre mesi, miseramente fallì, come avevano fallito tante altre persone, però uno lo prende con filosofia, alla fine ho fallito io, hanno fallito pure gli altri, che dobbiamo fare. E lascia un po' perdere. Poi a un certo punto, nel tempo, continuerei a lavorare sul trasporto ottimale, imparai sempre più cose, imparai nuove tecniche, mi dissi, ah, ora ci riprovo, 2007, grossomodo, 2006-2007, ero a Lione, ci riprovai, fallì. Andai di nuovo avanti per un po', nel 2009 mi trasferì in Texas, e in Texas tra i vari colleghi che avevo all'università, c'era un matematico argentino molto famoso, Luis Caffarelli, che aveva molto lavorato su delle questioni di trasporto ottimale di questo tipo, inizi a fare un po' due chiacchiere con lui, ovviamente anche lui conosceva il problema, e poi iniziò un po' a studiare delle cose che aveva fatto, e quindi mi disse, ah, ora ci riprovo un'altra volta, iniziamo intorno 2009-2010, miseramente fallì. E a un certo punto, questo poi nel tempo divenne un po' un'ossessione mia insieme a un collaboratore, Guido De Filippis, che veniva spesso in Texas a trovarmi, quindi 2010-2011-2012, e mi ricordo un giorno, per l'ottantesima volta, un pomeriggio, avevamo una conferenza in Germania, avevamo il pomeriggio libero, un millesima volta a sto problema, vediamo un po', magari riproviamo in quest'altra maniera, e quel pomeriggio, discutendo, a un certo punto, ah, sì, ma magari potremmo provare quest'altra maniera, ma a un certo punto dal nulla, tipo a una frase, abbiamo avuto un'illuminazione, abbiamo detto, ah, ma aspetta, forse quella è la maniera giusta, aspetta, ma forse così funziona, ah, ma così, eccola, cinque ore dopo, più o meno avevamo la dimostrazione. Quindi, sette anni di infruttuosi successi, che però in verità non sono mai infruttuosi, in verità dai fallimenti si impara più che dai successi spesso, perché proprio fallendo si capisce perché una cosa ha fallito. No, veramente lo penso col cuore, nel senso che nella vita, nella scienza, nella ricerca, ci si scontrerà con dei fallimenti e l'importante è trarne qualcosa di positivo, imparare qualcosa. E in questo caso si trattava di matematica, può essere molto più generale, però sicuramente, diciamo, tutti questi fallimenti, tutto questo non uscire, uno lo può incanalare come un fallimento personale o può cercare di imparare delle lezioni, capire dove si è sbagliato, capire perché una cosa non funziona e magari provarne una diversa. Quindi, la storia che era dietro questo problema è stata sette anni di fallimenti fino ad arrivare a trovare l'idea giusta. Quindi, come dicevo, nonostante questa connessione fosse nota ormai dagli anni 90, nessuno era stato in grado di sfruttarla e sviluppando questa teoria poi siamo in verità riusciti a risolvere anche il problema delle equazioni semi-giostrofiche. a volte risolvere un problema di matematica, mi piace pensarlo come l'idea di voler scalare una montagna, nel senso che se uno vuole scalare una montagna magari potrà provare diversi cammini e magari ogni tanto si rimane bloccati durante il cammino e con molta fatica si riesce ad andare avanti, si riesce ad andare avanti, si riesce ad andare avanti, ma l'artec non sappiamo mai se il cammino che abbiamo preso è quello giusto. Quindi può essere che noi arriveremo avanti fino a un certo punto, ma poi rimarremo inesorabilmente bloccati. E certe volte bisogna anche avere il coraggio di scendere giù e ricominciare da capo. E quindi poi alla fine si può trovare il cammino giusto per arrivare alla vetta. e quindi questa è un po' una piccola, come dicevo, una storia personale che almeno riguardo al trasporto ottimale fa notare delle cose. Da una parte fa notare che il trasporto ottimale è chiaramente un problema interessante di suo, un problema attuale, tuttora è molto studiato. Però oltre ad essere interessanti di suo, ho applicazioni in tante altre aree e poi quello che mi piace da questi esempi è mostrare che in verità certe volte le applicazioni possono andare al di là delle aspettative. Cioè trovare per esempio una connessione e scapire che il trasporto ottimale si trova dietro questi movimenti dei certi fronti atmosferici è una scoperta abbastanza sorprendente e l'unica maniera per avere queste scoperte un po' sorprendenti è solo lasciando anche un po' di libertà a quelli che fanno scienza di pensare liberamente. Se si trattasse di arrivare all'applicazione istantaneamente magari non riusciamo a vedere certe connessioni. Queste vengono con anni e anni di studio appunto lasciato un po', dove la mente è lasciata un po' volare. E ora uno potrebbe dire ok, ha risolto tanti problemi, magari hai tenuto un riconoscimento enorme, quindi ora basta, cioè a quel punto che vuoi fare più, mi metti in panciolle. E in questo c'è una bella frase di Kaus che mostra un po' come pensa un matematico, uno scienziato, dice non è la conoscenza ma l'atto di imparare, non è il possesso ma l'atto di arrivarci che dà la gioia maggiore. Quando ho chiarito e esaurito un argomento mi c'è lontano per tornare nell'oscurità. L'uomo non soddisfatto è così strano che se ha completato una struttura non ce la fa restarci in pace ma deve iniziarne un'altra. Immagino che si debba sentire così il conquistatore del mondo che quando un regno è stato malapena conquistato si lancia subito verso un altro. Applausi Kaus è stato un grandissimo matematico tedesco e penso che questa frase racchiuda il pensiero di tanti tanti scienziati, anche per fortuna, nel senso che comunque si arriva a un obiettivo ma la parte più bella è proprio il cammino che ci porta a scoprire qualcosa. E quindi poi una volta scoperto qualcosa si vuole ricominciare perché in verità di domande ce ne sono tante e di risposte ma è abbastanza. E per concludere, direi che siamo nei tempi, vorrei solo menzionare gli ultimi due esempi, vi ho mostrato due esempi che in verità sono dei esempi su cui poi mi sono, ai quali mi sono molto dedicato negli ultimi 2-3 anni. Roberto ha menzionato questo grant, questo IRC, sono dei grant della comunità europea che vengono appunto dati per finanziare ricerche a lungo termine, dell'ordine di cinque anni. E quindi negli ultimi anni infatti mi sono molto lanciato sullo studio di questi problemi. Quindi da una parte vogliamo capire come una membrana si deforma quando incontra un ostacolo, in questo caso come la tracchetta si deforma quando urta la pallina da tennis, dall'altra vogliamo capire come si scioglie il ghiaccio. E cosa hanno in comune questi due problemi? Da un punto di vista fisico niente, non hanno nessuna connessione fisica. Però come dicevo il matematico non è tanto quanto riguarda il modello fisico. Il matematico prende il problema, viene per una volta tramutata in formule, il matematico lavora sulle formule. E quindi la cosa sorprendente è che le stesse equazioni descrivono i due problemi. Ora ve le mostro giusto per... Nel caso della membrana elastica si tratta di trovare le giuste variabili, però diciamo se uno denota con v la distanza tra la membrana elastica e l'ostacolo, allora la distanza risolve un'equazione di questo genere. Per quello che stanno un po' in matematica, un po' avanzata, la placciano di v uguale caratteristica a v positivo. Nel caso del ghiaccio, se teta denota temperatura, si tratta di fare un cambio di variabile, un calcolare prima un integrale, questo è semplice, e poi si risolve quest'altra equazione che se notate è la stessa, c'è giusto un termine in più che non gioca un ruolo troppo importante. Quindi in verità, a parte fare qualche semplice operazione matematica all'inizio, alla fine si tratta di risolvere quest'equazione per l'ostacolo e quest'equazione per il ghiaccio. Quindi la realtà è che abbiamo due equazioni sostanzialmente uguali per due fenomeni diversi. E questo, diciamo, è un esempio del potere unificante della matematica. Cioè la matematica, appunto, una volta che siamo passati alle formule e non ci interessa più che sia ghiaccio, che sia membrana elastica, le formule sono là e noi studiamo quello. Una volta che abbiamo dato le risposte, abbiamo dato le risposte però per entrambi i problemi. Quindi ci è bastato studiare un'equazione per rispondere a entrambe. E quindi questo era sempre per mostrare un po' a volte la matematica per cosa può fare, può unire dei problemi diversi. E niente, vediamo che ci siamo. Una foto di Roma che non fa mai male. Grazie mille. Allora, grazie Alessio per questa stupenda conferenza. penso che abbiamo il tempo per due, tre domande, se avete voglia. E dove sono le persone con i microfoni? Allora, chi ha una domanda? Breve, brevissima. Eh, sono un po' emozionato perché l'argomento che ha trattato il professore tocca nel mio passato. 51 anni fa io misi a punto un programma che per effettuare le previsioni a computer numeriche al centro meteorologico di Roma. C'era un'enorme approssimazione ma ha cominciato a essere utilizzato. un ostacolo maggiore, ecco, per essere sintetico la domanda, quel modello che veniva da Berkeley, quel modello matematico dell'equazione della fluidodinamica che è stato superato dalla geostrofica, eccetera. Il trasporto ottimale riesce a risolvere efficacemente il problema del vincolo dell'orografia? Allora, stiamo andando sul tecnico. Diciamo che il punto semplicemente è che il trasporto ottimale non si applica dappertutto, nel senso che poi le connessioni si trovano solo in certi problemi. Quindi, in verità, la risposta è no, nel senso che il trasporto ottimale, la connessione è stata trovata da Cullen per questo modello, che è un modello... ogni problema ha i suoi modelli. Le semigeostrofiche descrivono i fonti atmosferici a larga scala. Io ho semplificato dicendo che è una nuvola. La realtà è che dobbiamo pensare al grosso banco di nubi che passa sopra l'Europa. Ed è questo caso in confusione del trasporto ottimale. Se uno cambia il modello, il trasporto ottimale non si ritrova più. Quindi, diciamo, è stato estremamente potente in questa situazione. Un'altra domanda? Fate però qualche... fate parlare a qualche ragazzo, però, eh, magari... Gioco a calcetto anch'io, sono giovane. Faccio subito una domanda molto semplice, apparentemente. Mi domando, secondo lei, la matematica potrebbe essere, come spesso è stato fatto, abbinata all'economia e parlando di problemi attuali, potrebbe essere d'aiuto per i 7 miliardi di popolazione, legando gli studi di matematica al fatto che, a livello di alimentazione, 5 miliardi di bambini muoiono, credo, ogni anno, 5 milioni, forse. Il problema dell'alimentazione, la matematica, potrebbe far sì che si possa soddisfare tutta questa quantità di persone? Ok. Allora, magari intanto... penso quell'angolo era quello... C'è un angolo dove chiedono di parlare, laggiù. Là in fondo, nell'angolo, ok. Allora, la risposta è sì, però, allora, la matematica non è che risolve problemi. La matematica è... bisogna prendere i dati, mettere insieme, avere i numeri e a quel punto la matematica può ottimizzare. Cioè, uno può dire, ok, quanto veramente posso produrre? Qual è la maniore di ottimizzare? Ora, non so se noi, come pianeta, siamo in grado di sostentare, perché non ho i numeri, non ho informazioni. Diciamo, la matematica può dire cosa si può fare nel migliore dei modi, poi a quel punto uno deve anche attuarli. Però, diciamo, da un punto di vista astratto, sì, la matematica potrebbe rispondere perfettamente. Poi ci sono questioni più grandi. Laggiù? Eh, sì. Vabbè, la mia non è che è una domanda filosofica, cioè, è proprio una cosa tecnica che non ho capito quando lei spiegava. Ok. E praticamente lei ha detto che quando si modifica, vabbè, le condizioni in cui si trova un cristallo, la modificazione è di radice di Epsilon, ma io non ho capito in che senso. Penso. Allora, chiaramente non ho scritto le formule, quindi è difficile un po', questa è una domanda giustissima, non è che mi aspettassi una comprensione completa. il punto è questo. Ora, a parte unità di misura, diciamo che, per esempio, Epsilon rappresenta, non so, in miliardesimi il numero di gradi di cui ho aumentato la temperatura, una certa unità di misura. Quindi diciamo, Epsilon rappresenta quanta temperatura ho dato al sistema. A quel punto mi posso chiedere, per, diciamo, per spostare, per deformare il mio cristallo, quando deformo il mio cristallo da questa configurazione a questa configurazione, ci saranno varie particelle che si sono mosse. In particolare, diciamo, se uno guarda, questo prima era un segmento perfetto, e adesso ha vari bozzetti. E potrei chiedermi quant'è qua la distanza massima da un segmento, nel senso, immaginiamo che il segmento che approssima meglio questo insieme è questo, dritto, e a quel punto mi chiedo quant'è questa lunghezza, cioè quanto questa curva un po' deformata è vicino a un segmento. Questa lunghezza, nelle giuste unità di misura, è radice di Epsilon al più. Prego. Io direi, possiamo fare un'ultima domanda dall'alto? C'è qualcuno? Sì. Dall'alto c'è Stasi. Dall'alto, sennò è ingiusto che facciamo... C'hai il microfono? C'hai la sua curva? Pronto? Sì. No, ripescando dalle brume degli studi di matematica... Pronto? Sì. Non è che ha a che fare con un calcolo delle variazioni, il trasporto ottimale? Sì, tutto ha a che fare col calcolo delle variazioni. È un'applicazione del calcolo delle variazioni? È un problema nella grande famiglia del calcolo delle variazioni. Con, insomma, ho derivate massimi e minimi e studi. Sì, sì, assolutamente. Vabbè, io direi che adesso ci fermiamo qui, ringraziamo ancora Alessio. Alessio... Vabbè, facciamo una piccolissima anticipazione, facciamola. Alessio non si ferma qui, infatti stiamo insieme in realtà preparando una storia, lo diamo in anteprima, mondiale per Topolino, che uscirà a novembre per Lucca Comics e che si chiamerà Zio Paperone e il Cavatappi quadridimensionale. Ricordatevi di comprarla in elicola ai primi di novembre. Vai. Grazie ancora a tutti quanti. Grazie. Grazie. Grazie.